e allora vediamo come fare velocemente sul biscotto questo è tutto il biscotto che ho provato non sono ravioli biscotto, che sia, questo è un bacio di farina questa farina con il zucchero vediamo quindi il zucchero, che sia un bacio di zucchero, pozzo abba ok da voi si, avviamo già mascolare così tutto l'impasto, lo faccio io, avviamo già mascolato finizialmente accando, non che avessi di su, s'impasto ok da voi si che faremo su s'impasto, fare la stessa basta, la faremo su gas, ok quindi questo è stessa basta, faremo su s'impronta con questo proprio sagnolotto faremo su s'impronta, un po' non mi fa tassate, così, ok 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 ok, quindi da voi si chi è, negli epocamoso, negli epocamoso casi uno, 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 donzi uno, eh li ponimoso, li ponimoso in oga e da voi si, facchimo su, sa, gettata con su zucchero caso, eh e son pronta, pro le ponere, indirento, indirenta su furro, ok li ponimoso su furro, da che, da che minuto so, da che minuto so, a, do ghen tu, a do ghen tu, eh se guardate su livello, volete gustare a gas, magari, uno elettrico, funziona diverso, ok quindi, il mio posto grazie a tutti